Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come va ragazzi? Come state? Mi auguro ovviamente che stiate bene e mi auguro ovviamente che stiate passando delle belle giornate. Ragazzi devo dire che queste dichiarazioni mi hanno spiazzato. Non credevo che potessero arrivare nel senso che ci sono delle situazioni che nel mondo del calcio rimangono spesso diciamo all'angolo. Molto spesso non le vediamo, non le sentiamo, neanche percepiamo perché essenzialmente noi siamo concentrati sui giocatori, sul campo, sugli allenatori. Quindi molto del gestire una società non ci viene detto. Ci vengono dette le cose più importanti. Certamente non viviamo dentro la società della Juve, non siamo a cena con i vari soggetti, ma comunque le dichiarazioni di Arriva Bene della scorsa intervista a Tutto Sport mi hanno spiazzato. Ho detto ma com'è possibile che ha detto questa cosa? È la prima volta che lo sento indirigente a dire queste cose e non so se essere fiero o se essere gasato. Nel senso che ha detto delle cose che penso chiaramente anche io. Le ho dette per anni su questo canale. Quando le dicevo mi guardavano come se fossi, non lo so, come se avessi parlato turco praticamente. Non fossi stato compreso. Però cerchiamo di capire un pochino quello che succede. È un attacco diretto di Arriva Bene, quindi è un bello scontro che vi presento. Prima di iniziare, come al solito ragazzi, io volevo invitarvi a iscrivervi al canale, mettere like al video, attivare la solita campanellina delle notifiche. Tutti i giorni nuovi video sulla Juve, tutti i giorni nuovi contenuti. Quindi se vi va, iscrivetevi e attivate la campanella delle notifiche. Ragazzi, la campanellina è importante perché ogni volta che praticamente voi avrete un video, quindi ogni volta che pubblicherò un video, vi arriverà una notifica sul cellulare. Attivatela, così eccetera eccetera. Trovate OneFootball, che è l'app numero uno dedicato al calcio, e i miei social, quindi se vi va, venitemi a seguire. Allora, Arriva Bene non è conosciuto per essere un tipo docile. Quando Arriva Bene non lavorava nella Juve, ma faceva parte solamente del CDA della Juventus, comunque aveva altre funzioni in altre aziende. Cioè ha lavorato nella Ferrari, ha lavorato in varie società, eccetera eccetera. E ogni volta che lui ha lavorato all'interno della società, tutti quanti sono rimasti colpiti dal suo metodo di lavoro. Cioè arriva bene un tizio che inizia a lavorare la mattina e finisce la mattina dopo. È talmente devoto al proprio lavoro da non ritagliarsi spazi liberi in famiglia e con gli amici. Cioè lui è conosciuto per essere uno che lavora sempre, non smette mai. Quindi in una delle sue grandissime giornate di lavoro deve aver, secondo me, detto parecchie insulti a Fabio Paradice. Da come si vince appunto, anche se vogliamo, dalle dichiarazioni che lui ha fatto a tutto sport. Lui stava parlando di bilancio. E ha detto, è importante che all'interno comunque di una squadra di calcio vadano considerate varie cose. Cioè va considerato il campo, va considerato il progetto, però va considerato pure il bilancio. Perché le società non sono solamente squadre di calcio che entrano in campo e giocano a calcio. Ma sono anche delle società quotate in borsa nel caso della Juve. Quindi sono delle società che devono dare delle spiegazioni agli investitori. Cioè la Juve deve dare una spiegazione a chi vuole investire nella Juve. Cioè se le persone ti danno dei soldi e quindi investono su di te, tu sei portato purtroppo a tener conto di quelle persone. Perché altrimenti tutti gli investimenti che queste persone faranno non saranno più utili per quanto riguarda il progetto. Cioè la Juve, essendo contata in borsa, è una società che deve mirare purtroppo all'equilibrio totale, più delle altre probabilmente, a livello economico. Ora, lui ha fatto una dichiarazione che a me ha fatto sbellicare. Ha detto, a un certo punto stava parlando con l'intervistatore, ha parlato di tutte le varie situazioni, a un certo punto ha detto, io non voglio criticare, perché ci mancherebbe altro. Non voglio, si riferiva alla vecchia gestione, insomma paradisi, eccetera, eccetera. Io non voglio criticare. Però voi lo sapete che Douglas Costa, preso un giocatore a caso, andrà ad incidere anche sul bilancio dell'anno prossimo. Cioè nel senso, i costi relativi ad un giocatore che ha lasciato la Juve da un sacco di tempo e che quindi non dovrebbe essere più neanche una situazione che ci interessa, perché comunque, raga, il giocatore è stato venduto, arrivederci, non so se sia adesso venduto, comunque è fuori dalla Juve, quindi non ci interessa. Eppure, eppure, questo giocatore, secondo arriva bene, è a bilancio non solo per quest'anno qui, ma sarà a bilancio pure per l'anno prossimo, appesantendo così ancora di più il bilancio della Juventus. Questo per farti capire essenzialmente delle cose. La prima cosa è che noi eravamo in mano ad una persona che di economia non masticava niente. Paratici è un ottimo scout, sicuramente è un buon dirigente, ha portato ottimi giocatori, ma dare tutta la Juve nelle mani di Paratici è stata la fine. Io questa cosa qui l'ho sempre detta. Mai nella vita avrei dato la Juve in mano ad un singolo uomo, e specialmente se qualsiasi, insomma, da Paratici, che non aveva mai avuto nella sua vita competenze economiche, perché la persona che aveva competenze economiche era Marotta. Marotta e Paratici funzionavano bene perché Marotta rappresentava il livello economico della società. Cioè, sapeva fin quando doveva spingersi. E sceglieva, insieme a Paratici, giocatori. Paratici gestiva le trattative. Dare tutto nelle mani di Paratici è stata la fine della Juventus. Perché Paratici ha cominciato a mettere becco nel bilancio, perché Paratici ha cominciato a mettere becco negli allenatori, perché Paratici ha cominciato a fare delle cose che non c'entravano niente con il solo ruolo da direttore sportivo. Raga, in una squadra di calcio funziona come in ogni elemento lavorativo della terra. Va bene? Se tu fai il direttore sportivo, tu devi fare il direttore sportivo. Quindi ti devi occupare dei giocatori, di prendere i giocatori, di fare... Se tu fai l'allenatore, devi fare l'allenatore. Quindi devi mettere in cambio... Se tu fai il presidente, se tu fai il segretario, se tu fai l'amministratore dei regali, devi fare una serie di situazioni... No, allora, come posso spiegare? No. Devi cercare di rispettare il tuo ruolo. Ad un certo punto all'interno della Juventus non si capiva più quali... Non si capiva più niente. Perché c'era Paratici che faceva un po' tutto. Si occupava del bilancio, si occupava della parte sportiva, si occupava della parte economica. Tu vedevi... Ti dava l'impressione di essere un dirigente che aveva difficoltà, perché comunque tu lo vedevi. C'era Nedved che, insomma, aveva i suoi ruoli, eccetera, eccetera. E c'era Agnelli un po' più defilato. Quindi arriva bene quando, secondo me, se è trovato di fronte il bilancio e la Juve, arriva bene se è messo le mani nei capelli. Perché ad arrivare bene è stata chiesta una cosa l'anno scorso, quando è arrivata la Juventus. La prima cosa che devi fare, prima ancora, per rinforzare la squadra, è quella di ridurre il monte in gaggi e di ridurre i costi. Quindi di tagliare tutto ciò che è tagliabile all'interno della Juventus. Perché? Perché noi abbiamo degli obblighi. Con la UEFA, con la FIFA, con la Lega Calcio, dobbiamo rispettare quelli... Una volta che li avremo rispettati, allora sarà il momento di parlare di cose i più importanti, tipo rinforzo, eccetera, eccetera. Perciò io ho definito questa stagione di transizione. Perché la Juve si è recata a fare mercato l'anno scorso, prendendo semplicemente Locatelli, pagandolo con una formula che tra l'altro non l'hanno neanche cominciato a pagare, perché la Juventus ha fatto un prestito biennale, e in più, in più, ha preso Ken, prestito anche qui, e Caio Iorga, pochissimi migliori. L'anno scorso Arriva Bene Locatelli, Ken e Caio Iorga li ha pagati 10 milioni in tutto, perché ha fatto due prestiti, di cui uno che non verrà saldato perché non è un prestito con obbligo, e l'altro che verrà saldato negli anni successivi, e ha preso 10 milioni di euro Caio Iorga. 5 milioni di Caio Iorga e più bonus, eccetera, eccetera. Quindi andando a fare una valutazione, questo è proprio un attacco diretto di Arriva Bene a Paratici. Cioè, questo è proprio Arriva Bene che prende Paratici e dice, porca di quella miseria, ti devo dire sui giornali quello che penso, quello che dico, quello che vedo, quello che scruto, quello che leggo, perché se una persona si trova a dover lavorare in una società, e credetemi, so quello che vuol dire, lavorare per una società, per un qualcosa che sta, che devi salvare, e chi su Instagram mi segue, su un altro Instagram, sa di che cosa sto parlando, eccetera, eccetera, vi dovete rendere conto di quanta rabbia ti viene quando tu trovi una società nelle mani di una persona sproveduta, di una persona sproveduta, cioè, all'interno della nostra tifoseria c'è gente che contesta Arriva Bene, Arriva Bene sicuramente non è simpatico, diciamoci la verità, raga, non è simpatico, ok, la simpatia arriva bene in San Manco è così, è un carattere così, a me però Arriva Bene piace, come dirigente piace, non ci posso fare nulla, mi manca la sensazione di, o meglio, avevo la sensazione comparatici di non essere protetto a livello societario, avevo la sensazione comparatici di avere all'interno della mia società un soggetto che sapeva che il suo contratto non sarebbe stato rinnovato e quindi non si impegnava così tanto per rendere meglio la Juventus, per rendere più forte la Juventus, arriva bene non solo è uno che ci mette la faccia, non solo è uno che va di fronte alle telecamere a parlare, quindi come faceva Marotta, ma è uno che adopera metodi importanti, il monte in gaggio della Juve era a 340 milioni, adesso è a 270 in un anno, ha tagliato il mondo, i costi della Juve sono stati tagliati, le perdite azzerate e meno svalenze non esistono, tutto quello che riguarda il rosso di bilancio è calato, sono state portate ad arriva bene delle competenze diverse, l'aumento di capitale ha aiutato, non ti sto dicendo che l'aumento di capitale non abbia aiutato, ma la Juve ne ha fatto anche uno con paradici di aumento di capitale, il paradici lo ha sprecato, lo ha sprecato senza contare tutto quello che ha combinato a livello tecnico, cioè ragazzi devo elencare gli errori di paradici degli ultimi anni, credo che siete abbastanza veramente, credo che ve ne ricordate degli errori di paradici, non sono passati i 250 miliardi di anni, oh raga, ha preso giocatori a 7 milioni di euro a centrocampo bloccando delle sessioni di mercato intere facendo contratti pluriennali, Douglas Costa è a bilancio nonostante sono anni che non gioca più da noi perché chissà quanti anni di contratto gli ha fatto e quanti bonus gli ha dato, ha fatto rinnovare giocatori fuori ciclo a milioni e milioni di euro, non ha venduto giocatori che non facevano parte del progetto, ha preso giocatori a prezzi improbabili, ha sbagliato il progetto dello stadio per quanto riguarda la situazione relativa all'ampliamento, a un possibile ampliamento, cioè ha fatto da, ha preso un allenatore, un allenatore che ci disprezzava in maniera molto 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 seria e che ha azzerato tutto quanto che di Juventus ci fosse all'interno della nostra società, cioè ragazzi, ma ci rendiamo conto in mano a che cosa noi eravamo? cioè una squadra forte, una qualsiasi squadra forte sulla faccia della terra corrisponde ad una società forte, una squadra forte corrisponde ad una società forte, cioè non esiste che una squadra forte abbia una società, io non l'ho mai visto nella mia vita una squadra forte in campo con una società debole fuori, mai, mai nella vita e c'è gente che critica e arriva bene, lo criticano probabilmente per i modi, perché ha dei modi sbagliati, le gruppi di Di Bala, i gruppi di Di Bala, cioè persone che tifano Di Bala, gli appassionatissimi di Di Bala, non i fan di Di Bala, perché credo che tutti siamo stati estimatori di Di Bala e siamo estimatori di Di Bala, io sto parlando di quelle persone che tifano Di Bala prima della Juventus, lì allora c'è antipatia sicuramente, le gruppi, i gruppi di Bernardeschi, i gruppi, i gruppi di Ronaldo, tutto quello che volete, ma è un dirigente con gli attributi, è un dirigente con gli attributi, è uno di quelli che comunque comunque fa la differenza, è uno di quelli che fa la, che comunque riesce da questo punto di vista ad essere importante per la Juve, poi che ci siano fanatici di Ronaldo, fanatici di Di Bala, fanatici di De Litt, quelli fanno parte del calcio, che cosa vuoi fare? Tutti ci affezioniamo ai giocatori, tutti siamo gruppi dei giocatori a un certo punto, cioè siamo tutti appassionatissimi dei nostri giocatori, però bisogna anche cercare di capire quando un dirigente sta facendo bene e quando un dirigente sta facendo male, per me attualmente arriva bene, sta facendo bene, poi raga, tutto quello che sarà arriva bene non lo so, può essere pure che arriva bene sta facendo bene ora e dopo fallirà, non lo so, ma sentir dire da certe persone che la gestione di arriva bene è fallimentare, perdonami, in base a che cosa? Cioè è arrivato qui da un anno e ti ha preso Vlaovic, Zaccaria, Gatti, Pogba e Di Maria, ti ha venduto gente che tu volevi far fuori da una vita, ti ha risanato il bilancio, non capisco cosa ci sia di sbagliato nella gestione di arriva bene, cioè non riesco a capire cosa ci sia di sbagliato nella gestione di arriva bene, qualcuno me lo spiega perché non l'ho capito. Preferite un dirigente come Paratici? Avreste preferito continuare con Paratici? Avreste preferito continuare con un dirigente che anche al Tottenham sta avendo problemi ma voi avete sentito di recente i commenti dei tifosi del Tottenham l'unica cosa su cui i tifosi del Tottenham sono d'accordo è Conte. Dicevano abbiamo un allenatore come Conte con un buon allenatore ma Paratici al Tottenham ha già avuto scontri perché c'è un modo di lavorare che non è adatto a squadre di questi cioè da solo non va. Può essere un ottimo dirigente d'accompagnamento può essere un ottimo dirigente che vada ad accompagnare qualcuno ma io ti sto parlando di un dirigente che va a che va se vogliamo a totalizzare la squadra e lui non è questo tipo di dirigente fatemi sapere nei commenti.